È stato condannato a sei anni di reclusione per tentato omicidio l'operaio di 53 anni che lo scorso anno prese a martellate la moglie in un appartamento di Pozzo nel comune di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo. La donna, 48 anni, dopo l'aggressione non aveva mai perso conoscenza nonostante avesse perso molto sangue. Trasportata all'ospedale delle scotte di Siena era stata dimessa con 30 giorni di prognosi. La donna aveva provveduto poi a sporgere subito denuncia nei confronti del coniuge dal quale sembrava si volesse separare. Da qui la reazione folle del marito di professione operaio incensurato. La sentenza è stata pronunciata oggi presso il Tribunale di Arezzo dal giudice Giulia Soldini. Il pubblico ministero Laura Taddei aveva chiesto 8 anni. Al 53enne, che aveva richiesto il rito abbreviato, sono state riconosciute le attenuanti generiche. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari.